che raggruppano stati appartenenti ad una medesima area geopolitica e capaci di riprodurre i meccanismi di funzionamento governativo e quindi di un'organizzazione. Ne sono un esempio le organizzazioni per l'unità africana o la Liga Araba. L'articolo 52 della Carta delle Nazioni Unite riconosce alle organizzazioni regionali un ruolo nel campo del regolamento delle controversie. Addirittura il Consiglio di Sicurezza dovrebbe astenersi dal trattare ed occuparsi di questioni che già stanno valutando le organizzazioni regionali competenti in materia. L'articolo 53 della Carta delle Nazioni Unite afferma che il Consiglio di Sicurezza può usufruire sotto la propria direzione degli organismi regionali per eseguire delle azioni coercitive, delegando quindi in capo alle organizzazioni regionali la possibilità di utilizzare la forza. Nessuna azione coercitiva può essere attivata e intrapresa in base ad accordi regionali o sulla base di una decisione dell'organizzazione regionale stessa senza la presenza anche di un'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza. Si esclude quindi che tale azioni possono essere deliberate direttamente dall'organizzazione regionale. Se la Carta all'articolo 53 ha inteso indicare espressamente la possibilità di delegare l'utilizzo della forza in capo ad un'organizzazione regionale significa che la nozione debba essere in qualche modo particolarmente rigorosa. Molto spesso le organizzazioni regionali non sono formate solo da stati che appartengono alla medesima area geografica, ma in vari casi si raggruppano anche stati che ispirano i medesimi principi e i medesimi elementi a fondamento della Carta. Sono infatti parte della Nato stati accomunati dalla Carta delle Nazioni Unite e dai principi che si trovano alla sua base. Sono degli organi che possono apparire quasi come decentrati rispetto alle Nazioni Unite. Un'organizzazione quindi di fondamentale importanza è proprio la Nato. Tale organizzazione ricomprende la componente politica e militare più importante dell'intera comunità internazionale. Nacque con il Trattato di Westfalia nel 1949 e raggruppava originariamente i soli paesi dell'Europa occidentale e dell'America del Nord. La restante parte dei paesi decise di raggrupparsi sotto il patto di Varzavia. Nasce quindi la Nato nel 1949 come organizzazione di autodifesa collettiva. Il Trattato istitutivo della Nato all'articolo 5 stabilisce che un attacco armato nei confronti di uno Stato membro della Nato fa attivare un obbligo di assistenza da parte degli altri Stati. Questa assistenza e questo intervento viene delimitato entro un determinato territorio indicato dall'articolo 6 del Trattato stesso. All'indomani poi dell'istituzione della Nato l'organizzazione stessa ha posto in essere un apparato militare dotato di forze permanenti. Con il tempo il suo potere è sempre accresciuto. A partire soprattutto dalla dottrina strategica del 1991 con cui la Nato si è dichiarata disponibile ad intervenire su richiesta delle Nazioni Unite anche fuori dall'ambito geografico definito all'interno del Trattato di Washington. Si ha poi la dottrina strategica del 1999 che ha prefigurato la possibilità di prevedere una risposta armata da parte della Nato anche in situazioni diverse da quelle di un attacco armato. Si tratterà però in questo caso di azioni indicate come non Article 5 Operation. Azioni quindi che vanno al di fuori di quelle determinate nell'articolo 5 del Trattato di Formazione della Nato. Il vertice della Nato poi a Lisbona ha portato alla formazione della dottrina strategica del 2010 accentuando sempre di più il ruolo della Nato in ambito di gestione di crisi internazionale affermando quindi la competenza dell'organizzazione ad intervenire nella fase antecedente allo scontro per prevenirlo durante lo scontro o nella fase anche successiva al conflitto tramite un intervento diplomatico evitando quindi la ripetizione dell'attacco.